Anche quest'anno in Sicilia si ripete un film già visto, nuove assunzioni centellinate con gravissime ripercussioni, soprattutto per la nostra regione. Riteniamo indispensabile richiamare l'attenzione, oltre che del Ministero, soprattutto del Governo regionale, su un problema che riguarda non solo studenti e insegnanti, ma lo sviluppo e il futuro della Sicilia, che non può essere attenzionato solo a parole. Lo dicono grazie a Maria Pistorino, Francesca Bellia e Claudio Parasporo, rispettivamente segretari di CGL, CISL e Will Scuola della Sicilia, a seguito dell'incontro con il direttore dell'ufficio scolastico regionale. Se è vero che si registra ancora una volta un consistente calo demografico della popolazione scolastica siciliana, aggiungono che non si giustificano scelte di politica scolastica mirate al risparmio, a discapito soprattutto della qualità dell'offerta formativa di una regione come quella siciliana, che vanta record, purtroppo in negativo, di tassi di dispersione scolastica, di aule sovraffollate e di edifici scolastici non idonei ai parametri di sicurezza sanciti dalla legge. Riteniamo assurda e inaccettabile la mancata trasformazione dei posti di sostegno in organico di diritto, continua nei sindacati. L'abbandono dei banchi di scuola si combatte con più scuola, che significa più risorse organici potenziati, classi sicure e non sovraffollate, aumento del tempo scuola, il tutto finalizzato al miglioramento della qualità dell'istruzione e dei processi formativi. Sindacati che sottolineano infine come tali scelte definite strozza organici non solo limiteranno al minimo le speranze di mobilità dei tantissimi docenti siciliani immessi in ruolo al nord e proprio sul sostegno ai posti disponibili ci sarebbero in abbondanza, ma renderanno una chimera anche la possibilità di assunzione per i precari storici e i vincitori dell'ultimo concorso a cattedra, parcheggiati nelle graduatorie di merito.